Il premio Fair Play della politica va al Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellani. Il premio Fair Play per la Camera dei Deputati va a Giussi Versace. Il Fair Play della politica anche nei dibattiti più accesi dove ci sono conflittualità, si devono rispettare le regole. Bisogna guardare il futuro con coraggio e positività anche in politica. Il dialogo, il rispetto e la lealtà ti rendono persone migliori a prescindere se dall'altra parte viene recepito meno.